Sebastiano Lungo, il promo che avevamo registrato con Mastai ha portato bene, anche tu puoi dire di aver segnato al Viareggio. Sì, infatti, siamo contenti per la prestazione, siamo contenti per il gol ma soprattutto per la squadra. Oggi abbiamo fatto una gran partita, ora però pensiamo all'Inter, è già testa mercoledì. La partita è finita proprio da pochi secondi, già pensare a mercoledì. Esprimiamo un attimo di soddisfazione per come è andata oggi. No, oggi abbiamo fatto una gran partita, il mister l'ha preparata bene. Ci lavoravamo da due giorni, non tanto, però il mister l'abbiamo preparata bene. È andata bene oggi, speriamo di continuare così e fare più punti possibili di girone e qualificarci il prima possibile. Tu hai segnato un gol e uno lo hai favorito per certi versi. Sì, sì. Visto che la punizione era tua. Sì, sì, ha fatto un bel passaggio il mio compagno Hamza, io l'ho buttato da dentro, poi la punizione è andata bene, su una deviazione il mio compagno si è fatto trovare pronto. Lo conoscevi già, perché è uno dei prestiti che abbiamo... No, 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 l'abbiamo conosciuto ora come l'altro ragazzo, un mustacciolo e già avevamo a Berauci che è venuto di nuovo con noi. Comunque si sono integrati bene e comunque va, bella partita oggi, speriamo di continuare così. Qual è il vostro obiettivo per il Biareggio? Intanto passare il girone e poi pensiamo partita dopo partita. Passare il girone però è un bello obiettivo. Non è facile, però... Considerato da chi è composto. Sì, ma infatti già abbiamo una partita importante mercoledì e là ce la metteremo tutte perché è una grande prova contro l'Inter, la squadra favorita per il Biareggio. Ciao.